raga buongiorno eccoci qui tadaaa coprone carissima fa un freddo boia 7 gradi 7 gradi ecco perché c'è il cappellino di lana e nulla milano fa un freddo esagerato poi ci avete chiesto come sta andando la preparazione dei tavoli cosa posso dirvi riguarda i tavoli che praticamente ci siamo guardati abbiamo provato a fare qualcosa e abbiamo litigato cioè comunque io e lorenzo siamo in disaccordo su tutto ma su tutto 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 no raga impossibile parla con lorenzo è possibile e vabbè ovviamente li dobbiamo fa ragazzi insomma direi con questo matrimonio siamo a cavallo il matrimonio non sta da fare tanti auguri ragazzi